I nostri docenti pubblicano sistematicamente sulle migliori riviste scientifiche internazionali. Per fare buona didattica serve buona ricerca. Questa è una ricetta che funziona per noi, come funziona per le aziende. Per avere buoni prodotti serve buona ricerca. Terzo luogo, un rapporto strettissimo con i nostri stakeholder, in particolare il mondo delle imprese. Il quarto ingrediente è un forte orientamento all'internazionalizzazione. La facoltà ha una rete con svariate decine di atenei in giro per l'Europa, sono circa 40, che utilizziamo per mandare in giro per il mondo i nostri studenti. Questo è il segreto del successo della Facoltà di Economia di Padova, che vede il 71% dei propri laureati occupato in stagio a soli sei mesi dalla laurea, percentuale che sale al 95% tra i laureati della Biennale e tra questi i quattro laureati su dieci hanno già un contratto a tempo indeterminato. Gli ex studenti di economia di Padova sono occupati principalmente in aziende medio-grandi. Il 20% ha cercato lavoro all'estero e il 7% lo ha pure trovato. I settori in cui vengono assorbiti gli studenti di economia sono principalmente le banche e le assicurazioni, nel 24% dei casi, seguito dal commercio e la grande distribuzione, dalla consulenza alle imprese. Un successo che la Facoltà di Economia condivide anche con l'esterno, tramite project work o accordi con le aziende, o ancora stage internazionali a seguito delle imprese. Un esempio è quello della Città della Speranza, per la quale la Facoltà di Economia sta riprogettando le politiche di ricerca fondi, o ancora la CGA di Mestre, per la quale sta ripensando l'opportunità di sviluppo per le piccole e medie imprese, o ancora le proposte di green economy o di risparmio sociale che la Facoltà propone alle aziende partner. Alla base dell'organizzazione della Facoltà, una didattica compatta, senza fronzoli, una forte proiezione internazionale, grandi rapporti con l'esterno e stagio obbligatori. La nostra Facoltà applica a se stessa, ai suoi processi interni, le stesse cose che consiglia alle aziende. E quindi è l'internazionalizzazione, l'eccellenza, la qualità nei prodotti e servizi e l'essere in rete con il mondo.